le macchinine colorate e il furto al parco giochi nel parco giochi qualcosa non va guardate! la macchina nera sposta e rovescia tutto quello che trova perché si comporta così? macchinina nera? questo non è giocare! ehi macchinine colorate serve il vostro aiuto al parco giochi andiamo! la macchina nera si è nascosta ha rovesciato tutti i nostri giochi eccola laggiù si sta comportando veramente male guardate! sta rubando uno dei blocchi per le costruzioni macchinine, seguiamola vediamo dove lo porta ma attenzione! rispettiamo le regole della strada piano! macchinine! non è così che si corre in mezzo al traffico sta passando il magico treno colorato! e c'è l'attraversamento ferroviario con la luce rossa che lampeggia ehi macchinina rossa devi fermarti in tempo la macchinina gialla intanto è andata alla stazione di polizia per cercare aiuto racconta quello che ha visto e che la macchina nera ha commesso un furto le macchinine verdi e blu seguono a distanza la macchina nera ma dove sta andando? forse sta cercando un posto per nascondersi ma si vede in seguita e scappa oh no! la macchinina verde è rimasta impantanata nel fango macchinina rossa puoi aiutarla? ben fatto! grazie! la macchinina blu è rimasta sola all'inseguimento ma non se la lascia scappare la macchina nera non se l'aspettava la macchina gialla e la macchina della polizia le hanno bloccato la strada arrivano anche le altre e adesso non può più scappare bene macchinina nera adesso porta il blocco al parco giochi dove lo hai trovato non finisce qui sai macchinina nera rimetti in ordine tutto quello che hai rovesciato macchinine vogliamo aiutarla? non può farcela da sola andiamo l'altalena è a posto e così il cesto con i palloni e anche l'altalena con i sedili si può utilizzare e i blocchi sono al loro posto per questa volta la perdoniamo? ma che non succeda mai più o sarai punita il parco giochi è pronto per divertirci alla prossima puntata ciao 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 ciao